È migliorato in modo sorprendente Emilio Visigalli, l'attivista del Centro Sociale d'Ordoni di Cremona, finito in coma a seguito della violenta aggressione da parte di alcuni militanti di Casa Pound nel gennaio scorso, proprio fuori dalla sede degli antagonisti. Emilio è tornato a casa, è da venerdì che può stare a casa insieme ai propri familiari, questa è un'ottima notizia, certamente lui non vedeva l'ora di poter tornare a casa e noi altrettanto di poterlo riabbracciare in un clima sereno. Anche i medici non si sarebbero mai aspettati un recupero di questo tipo, dovrà ancora sottoporsi almeno ad uno che è certo un intervento abbastanza invasivo, però certamente è una vicenda che era iniziata con un'ipotesi di omicidio da parte di questi squadristi di Casa Pound, almeno per quanto riguarda le condizioni di salute di Emilio, si sta risolvendo nel migliore dei modi. Il centro sociale prosegue con la sua attività? Noi andiamo avanti, andiamo avanti a fare quello che abbiamo sempre fatto, né più né meno, voglio dire, al fianco degli studenti, dei lavoratori, dei giovani precari, delle famiglie senza una casa o con in mano un provvedimento di sfratto, alle quali vengono distaccate le utenze, quindi l'attività del centro sociale continua a 360 gradi, come è sempre stato. Adesso abbiamo in programma un evento importante che sarà il 16 maggio, sicuramente uno degli eventi più importanti che faremo per la raccolta fondi benefit, per spese mediche legali e per Emilio e saremo aperti a tutta la città fin dalle prime ore del pomeriggio per tutta la serata. Si avvicina il 25 aprile, ma è come quest'anno il tema dell'antifascismo in primo piano in città. Gli attivisti del Dordone intendono partecipare al corteo, come sempre, che dovrà essere tranquillo ma deciso, e in cui verranno presentate le iniziative culturali e politiche per coinvolgere la cittadinanza, nel fine settimana dedicato alla liberazione dal nazifascismo. Sarà una giornata sicuramente importante per quello che riguarderà Cremona, speriamo, siamo fiduciosi, in una presa di posizione netta della giunta comunale che non vi è ancora stata, al di là delle parole con le quali è stato dichiarato che non verranno lasciato spazio ai fascisti, i fascisti hanno ancora una loro sede aperta in via Geromini. Questo è, noi sappiamo, siamo ben consci che l'unico modo di ricacciare questi sorci nelle fogne sarà schiacciarli politicamente e per questo ci impegneremo, come sempre abbiamo fatto, per fare in modo che anche Cremona possa respirare l'aria sicuramente più serena e più libera che respirava fino a quando questi rifiuti della storia non aprissero una sede in città. Grazie. 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 Grazie.